Quello che state per vedere sarà l'ultimo video di una trilogia basata su una delle fasi più affascinanti della storia della Disney. Nel primo abbiamo visto come Jeffrey Kassenberg abbia salvato la divisione animazione dalla chiusura, nel secondo abbiamo visto i danni dell'amministrazione Miller e in questo vedremo l'ascesa e la terribile caduta di un altro personaggio importantissimo, Michael Eisner, che da eroe della storia è diventato, ahimè, il cattivo. Buona visione! Michael Eisner nasce nel 1942 a Mount Kisco, una piccola cittadina nello stato di New York e la sua famiglia è particolarmente benestante. Infatti sua madre è dottoressa nonché presidente dell'Irving Institute Hospital, mentre suo padre è un pezzo grosso di uno studio legale specializzato in pratiche di urbanistica e di edilizia. Crescere in una famiglia con ingenti possibilità economiche ovviamente ha i suoi vantaggi, tant'è che Eisner entra senza problemi alla Denison University, rinomata Università dell'Ohio, laureandosi nel 64 con un bachelor in arti figurative e comunicazione. Poco dopo la laurea, il nostro trova lavoro come assistente produttore junior, prima presso la NBC, famosa azienda radiotelevisiva al tempo maggiore emittente americana, e poi presso la CBS, altra grande emittente che è stata una delle prime a trasmettere a colori. Dimostrandosi affidabile e ambizioso in entrambe le compagnie, Eisner colpisce particolarmente Barry Diller, vicepresidente della ABC, il quale lo prende sotto la sua ala protettiva rivelandogli tutti i trucchi del mestiere. Così Eisner continua la sua carriera nella ABC fino a raggiungere il posto di responsabile della programmazione e dello sviluppo, e nel 76 l'amico Diller, che nel frattempo si è spostato alla Paramount Picture, lo vuole nuovamente con sé. Inutile dire che Eisner accetta subito l'offerta e, in men che non si dica, diventa direttore operativo dell'intero studio cinematografico. Sotto la dirigenza Diller, lui e gli altri produttori, soprannominati ironicamente i Killer Diller, inanellano un successo dopo l'altro tra cui La febbre del sabato sera, Flashdance, il primo Indiana Jones e Beverly Hills Cop, per non parlare poi dei programmi televisivi come Happy Days o Family Ties, tutti amatissimi dal pubblico statunitense. Eh sì, possiamo tranquillamente dire che la situazione alla Paramount va a gonfie vele, ma, si sa, tutte le cose belle prima o poi finiscono. Infatti, agli inizi degli anni 80, pian piano arrivano i primi inconvenienti. A causa di un sistemico calo degli incassi, molti associati lasciano la compagnia finché sono ancora in tempo e, nell'agosto dell'83, vanno pure a fuoco gli studi, incidente che comporta la perdita di apparecchiature, set e strumenti, dai costi elevatissimi. Come se tutto ciò non bastasse, si aggiunge anche una lite personale fra Eisner e Diller, quest'ultimo, nell'84, abbandona la Paramount per andare alla 20th Century Fox, ma anziché cedere la sua poltrona a Eisner, la cede a Frank Mancuso, membro del consiglio di amministrazione Paramount da oltre 20 anni. Deluso e frustrato da quella scelta, Eisner rassegna le dimissioni e, proprio mentre cerca lavoro presso altre aziende, ecco che spunta fuori una proposta strana e interessantissima. Un dirigente minore, appoggiato da svariati investitori, gli chiede personalmente di prendere le redini di un colosso in crisi, una compagnia oramai non più a conduzione familiare, con all'attivo film, cartoni animati, parchi a tema e tonnellate di merchandise. Quel dirigente minore è Roy Edward, nipote di Walt, mentre la compagnia, ovviamente, è la Walt Disney Picture. Col senno di poi si può dire che è stata l'occasione giusta al momento giusto. Da un lato Eisner ha appena lasciato il suo impiego e deve trovarne uno nuovo, dall'altro Roy Edward ha disperato bisogno di un businessman capace, altrimenti l'azienda dello zio finisce scorporata in mille pezzettini. Senza pensarci troppo, Eisner accetta e si porta dietro un altro dei killer dealer, Jeffrey Kassenberg, con il quale si era sempre trovato bene. Arrivato alla Disney, scopre anche con piacere che il terzo pezzo grosso è Frank Wells, stimato presidente della Warner Bros dal 77 all'82. Ed è proprio qui che il grande cambiamento ha finalmente inizio. Ora, la situazione all'interno della compagnia di Topolino la conosciamo, quindi non voglio ripetermi, vi basti sapere che è bella grave. Ron Miller è stato estromesso appena in tempo, ma c'è parecchio lavoro da fare per tornare ai gloriosi fasti di un tempo. Per prima cosa vengono suddivisi i compiti. Frank Wells sarà il presidente della compagnia e del consiglio di amministrazione, Kassenberg guiderà la divisione animazione, che è quella più a rischio, mentre il nostro Eisner sarà il CEO, il ruolo forse più complesso di tutti, visti i danni fatti da Walker e da Miller. Dopo una rapida occhiata, la conclusione di Eisner è che all'azienda manca una figura di spicco, qualcuno che ci metta la faccia, qualcuno iconico la cui visione rimandi subito alla Disney. Infatti, a parte Walt, gli altri erano dei perfetti sconosciuti. Giusto per farvi un esempio, è stato difficilissimo trovare clip video di interviste o di apparizioni di Tatum, di Walker o di Miller, e questo perché non lo facevano mai, mentre di Eisner si trovano un sacco di contenuti. Il nostro, che come performer non è neanche malaccio, punta tantissimo sulla comunicazione personale, addirittura rilancia il Wonderful World of Disney, un programma TV il cui unico host, prima di lui, era stato nient'altro che Walt in persona. In parallelo, il suo piano d'azione pratico è semplicemente quello sviluppato negli anni alla Paramount sotto l'egida di Diller. Il soprannome Diller Killer, infatti, non gli è stato dato per caso. Ogni produzione da lui toccata si è rivelata vincente, e questo grazie a un particolare schema nel tempo chiamato High Concept. Come spiega il famoso autore Dan Brown su Masterclass Writing, le storie High Concept sono quelle costruite attorno a una premessa semplice e precisa, che però sa essere intrigante e irresistibile. In altre parole, sono storie facili, lineari, comprensibili e basate su un'idea anche pazza, ma che ti cattura e che ti stuzzica. E l'esempio migliore è forse Jurassic Park, che già dal titolo esprime tutto il suo High Concept. Un parco con i dinosauri. Fine. Non c'è filosofia, non ci sono pensieri profondi, non c'è arte elevata, c'è solo un'idea fighissima che porta al cinema anche chi è abituato a starsene sul divano di casa. Naturalmente, dietro al fenomeno High Concept, c'è un preciso sistema di marketing basato principalmente su tre elementi, the look, the hook e the book, cioè l'appeal visivo, il gancio che cattura e il libro da vendere. Riprendendo Jurassic Park, il look è l'idea accattivante dei dinosauri, che esteticamente valgono da soli il prezzo del biglietto. Il gancio, hook, è la narrazione, cioè il perché i dinosauri sono tornati sulla Terra dopo l'estinzione, dettaglio che appunto fa venire curiosità. Il libro, infine, è tutto ciò che si collega al film, quindi merchandise di ogni sorta, da magliette a borracce fino addirittura a libri, che possono essere precedenti o posteriori, è uguale. Questa formuletta, applicata in modo più o meno massivo, è quella che salva la baracca. Kassenberg, che di fatto non sapeva niente di cartoni animati, la usa per sparare fuori i suoi primi progetti, La Sirenetta e La Bella e la Bestia, due film meravigliosi che incassano vagonate di dollari. E così, ecco che ha inizio il rinascimento Disney, quel periodo fiorente e gioioso che, opinione mia personale, è ancora adesso uno dei migliori, se non il migliore in assoluto, in termini di produzioni animate disneyane. Tuttavia, Eisner non fa solo questo. Nei panni di produttore, allunga le mani su tantissimi progetti di successo, come che ha incastrato Roger Rabbit, per dire, e nel 93 acquisisce la Miramax, dettaglio che permette di ampliare l'offerta cinematografica per un pubblico più adulto, e anche parte della ABC, dove aveva lavorato anni prima, e della Freeform, al tempo nota come Fox Family. Inoltre, dietro consiglio di Cardon Walker, che nonostante le dimissioni è rimasto come consulente esterno, Eisner avvia un'altra espansione in materia di parchi divertimenti. Nel dettaglio fa partire Disneyland Parigi, inizialmente nota come Euro Disney Resort, Disney Adventure California e anche Disney MGM Studios, tutte strutture sulla carta visionarie, che di lì a poco avrebbero potuto moltiplicare i profitti della compagnia. Insomma, arrivati fin qui, scommetto che nella vostra testa Michael Eisner è diventato una specie di santo salvatore, diciamo. Ecco, questo è vero in parte, perché sì, sicuramente in principio la sua politica è stata preziosa per la grande D, ma poi, un po' alla volta, è sceso il buio, un buio non tanto diverso da quello del tenebroso Medioevo. Secondo praticamente tutti gli storici, l'anno che determina il declino dell'amministrazione Eisner è il 1994. Il 3 aprile di quell'anno, infatti, Frank Wells muore in un incidente in elicottero e Eisner, invece di nominare Kasenberg come presidente del consiglio di amministrazione, nomina l'amico Michael Ovitz. Ironia del destino, Eisner fa a Kasenberg lo stesso torto che, anni prima, Barry Diller aveva fatto a lui. Naturalmente Kasenberg, amareggiato, si dimette e se ne va, cosa che pesa sia sulle tasche dell'azienda, visto che il tribunale gli riconosce un risarcimento molto alto, sia sul rendimento della divisione animazione. Dopo l'incredibile successo al botteghino del Re Leone, per l'appunto, gli altri film si abbassano sempre di più, in termini di puri incassi, fino al disastro totale del pianeta del tesoro. Ma, andando con ordine, nel mentre succedono altri eventi fondamentali, in primis Michael Ovitz non ispira per nulla fiducia agli investitori e, come vertice, dura solo 14 mesi, dimettendosi dalla carica e ottenendo una buonuscita di quasi 40 milioni di dollari, in aggiunta, ovviamente, al suo compenso contrattuale. Praticamente una follia. Questo episodio sconvolge tutti quanti e così viene avviata una causa legale ai danni di Eisner, una causa per negligenza e per malafede, che dura ben dieci anni. Contemporaneamente, anche il fronte dei parchi a tema comincia un po' a scricchiolare. Disneyland Parigi non raggiunge gli obiettivi minimi preventivati, rivelandosi in netta perdita, mentre le altre strutture stanno nuovamente risucchiando gran parte delle risorse, dirottandole dai vari settori, ma senza prospettive gargantuesche come i precedenti Disneyland Tokyo o Epcot Center. Insomma, tra le dimissioni di Kassenberg, lo scandalo Ovitz, il tribunale e la smania di aprire nuove attrazioni a discapito dei cartoni animati, l'immagine della Disney sta perdendo consensi e, agli occhi della gente, la compagnia è divenuta un gigante senza anima, corrotto e avido di denaro. Un'immagine ben lontana dalla magia e dall'incanto di qualche anno prima che tanto piacevano ai bambini. Nei primi 2000, poi, tutto ciò si amplifica ancora di più. Le follie dell'imperatore e il già citato pianeta del tesoro, a discapito di budget enormi, incassano veramente poco. Inoltre, Eisner non è in grado di fornire un adeguato piano di continuità in relazione alle cariche più importanti. Dopo Ovitz, infatti, era rimasto solo lui, mentre Kassenberg era stato sostituito da un anziano Roy Edward prossimo alla pensione. E nel 2004, su questo triste e cupo scenario, all'assemblea annuale degli azionisti e degli investitori, accade ciò che tutti oramai si aspettavano. La maggioranza vota a sfavore di Eisner, il quale lascia il ruolo di presidente a George Mitchell, scelto dallo stesso Roy Edward, però rimane ufficialmente in carica come CEO. Infine, nel 2005, dopo ulteriori pressioni di Roy Edward e di Sid Bass, gli stessi che avevano mandato via Miller, Eisner lascia definitivamente l'azienda, rinunciando a tutti i suoi diritti contrattuali, al suo appartamento e addirittura al suo jet privato. A succedergli è Bob Iger e così finisce anche la seconda campagna Save Disney di Roy Edward, la medesima persona che, tanti anni prima, aveva affidato tutto quanto proprio a Michael Eisner. Ma adesso, signori, è giunto il momento dello sponsor, perché questo video è sponsorizzato da me. Sapevate che ho scritto un libro? Eh sì, è un saggio sul cinema animato di Mamoru Oshii, il regista, tra le altre cose, di Lamu, di Pat Labor e di Ghost in the Shell. Dai su, non fate i pigri e preordinatene una copia dal link che trovate qui sotto in descrizione. Non ve ne pentirete, parola mia. Come scrive Roger Lowestine su The Ledger, negli anni 80 Eisner rappresentava la rinascita dell'America aziendale che emergeva da un'era di stagnazione e di recesso. Per salvare l'azienda di famiglia da un brutale smembramento, Roy Edward aveva scelto un male forse addirittura peggiore. Mentre gli amministratori delegati degli anni 70 erano stati criticati come burocrati indifferenti ai loro azionisti, i nuovi dirigenti giovani si sono impegnati ad aumentare il valore delle loro azioni e, in pochissimi, lo hanno fatto così bene come Michael Eisner. All'inizio, lui ha dato nuova energia ai parchi a tema, ha rilanciato il business cinematografico della Disney e ha ripristinato il potere del suo marchio. Nel corso del suo primo decennio al comando, le azioni della compagnia sono aumentate a dismisura, ma questo ha comportato una perdita sempre più evidente dei vecchi valori. Voglio dire, un conto è fare soldi, siamo d'accordo. Un conto, invece, è speculare su chi nominare come presidente per giocare al rialzo delle azioni. Questa è una palese violazione della fiducia degli investitori. Se ti comporti così, è inevitabile che poi succedano casini come quello di Michael Owitz. Owitz era chiaramente inadatto per quel ruolo, ma è stato scelto perché il suo nome avrebbe fatto più scalpore di quello di Kassenberg, una decisione politica presa per il profitto immediato, senza nemmeno l'ombra di un pensiero a lungo termine. E i risultati, beh, si sono visti. Uno dopo l'altro, i film post-rinascimento gravano tantissimo sui portafogli degli investitori e, oramai, le grosse entrate generate dal boom dei parchi a tema sono finite. Se a questo ci aggiungiamo i problemi legali, la frittata è fatta, la dirigenza sta iniziando a costare troppo, sia in termini economici, sia in termini di immagine. Non è bello che la faccia associata alla Disney e anche a Topolino sia quella di uno indagato per commistione di fondi, per negligenza e per malafede, giusto? In ogni caso, dopo l'estromissione, Eisner produce qualcosina qua e là, partecipa a svariati talk show e, dopo essere sparito per 5 o 6 anni, decide di comprare la squadra di calcio inglese del Portsmouth, di cui, stranamente, è tuttora il proprietario. Ecco, signori miei, e con questo si chiude anche l'ultimo video sulla storia produttiva della Grande D del secolo scorso e, arrivati fin qui, sinceramente non so chi sia stato peggio tra Miller e Eisner. È vero, Michael Eisner ha fatto molto, ma gli strascichi dei danni della sua amministrazione si sentono ancora oggi, dopo quasi due decenni. Comunque, ora tocca a voi, scrivetemi che ne pensate giù nei commenti, date un'occhiata al mio libro se ne avete voglia, poi statemi bene mi raccomando, e noi ci becchiamo, come sempre, al prossimo video! Grazie a tutti! Grazie!